Ciao a tutti, siamo qui a Host 2021 dopo un periodo di stop, torniamo dal 2019 dove Storm è diventato un brand indipendente con il prodotto con cui ci siamo lasciati, una macchina altamente performante che permette al barista di andare a lavorare oltre che sulle temperature anche sulle pressioni di estrazione, quindi una macchina che permette di valorizzare al meglio il proprio espresso. Per quanto riguarda le novità, c'è Faro, il nuovo macinino da design riconoscibile, appunto che si avvicina moltissimo a quello della macchina norm, standard, profilo e percine di tutti i modelli e quindi si avvicina e rende il suo locale ancora più cool. Tra le novità c'è anche Storm Pilot, nuova della casa, un single boiler, quindi una monocaldaia che segue il filone estetico, il family feeling di Storm, quindi una macchina da design accattivante, interessante e che vi permette di estrarre un espresso di altissimo livello. Tutto questo per avere un ottimo espresso italiano.